Quindi adesso tutte le api stanno raccogliendo il tarassaco? Sì, come vedi, sono molto attratte dal tarassaco, quindi le api che si trovano con le arnie davanti a un campo così ampio di tarassaco saranno sicuramente invitate ad andare per forza sul tarassaco, nel senso che questo fiore tra l'altro è uno dei fiori che a loro piace di più perché è molto ampio come fiore rispetto a un fiore di ciliegio, di albicocco che è piccolino e che quindi fanno fatica a trovare il nettere qua hanno uno spazio enorme, a volte sono anche due o tre sullo stesso fiore e in più, intanto che raccolgono il nettere, si possono riempire di polline e quindi è un fiore che a loro piace tantissimo, poi anche il gusto, il fatto che sia uno dei primi fiori primaverili quindi loro arrivano dall'inverno con voglia di crescere, di miele e in più il colore anche, a loro piace tantissimo il colore giallo è uno dei quattro colori che riescono a vedere e quindi sono proprio attratti da questo fiore che meraviglia!